dove non c'è l'essere e l'esserci in libertà c'è la catena che asservisce e imprigiona la catena interna della dipendenza da un'antica figura catena che proietta su altri la propria dipendenza il soggetto libero può solo sottrarsi per non essere a sua volta asservito per non continuare il gioco delle parti dei ruoli che ripetono un vizio antico appreso nell'infanzia il soggetto libero può anche restare nella relazione trattando la soggettività dell'altro come libera finché l'altro non si riscatti dal gioco che gli stesso si è imposto per paura di perdersi perdendo l'altro per paura di amare in libertà ma questo amore in libertà è un'uscita dai ruoli istituzionalizzati per questo viene rimosso e negato perché a infrangere un ordine di schemi relazionali il soggetto libero però non può soggettarsi alla dipendenza dell'altro pena la perdita della sua stessa soggettività l'esperienza della soggettività come esperienza che tratta e realizza il dirsi profondo che si fa parola in sé e nell'altro è la meta che sottende ogni relazione nella sua spinta verso l'evoluzione dell'essere e della coscienza di essere ci sono strategie dell'amore dipendente l'amore intersoggettivo non ha strategie si dona essendo semplicemente se stesso